buongiorno amici buongiorno amiche ecco una novità importante otto motion come vedete l'ho scritto io ma ma in realtà si legge otto cast io ho fatto le mie piccole ricerche otto motion è sostanzialmente un otto cast infatti viene viene venduto anche nello store aliexpress di ufficiale di otto cast e poi ho fatto insomma delle ricerche e questo è otto cast che è un brand molto molto famoso per chi è un po come me bazzica i dongle android auto è stato uno dei primi a contrastare quello che era a wireless infatti io fui uno di coloro che comprarono per primi il lotto cast u2x il quale appunto nacque per contrastare il predominio di a wireless e card sci-fi e il bello di otto cast u2x era che funzionava anche se avevate un iphone quindi sia che voi avete sia che voi avevate un iphone sia che avevate un android vi potevate connettere via wireless chiaramente nel tempo le cose si sono evoluti questi questi dongle sono migliorati ed ora abbiamo questo otto motion otto cast che la ditta non mi ha mandato quindi me lo sono comprato da solo su aliexpress l'ho pagato una venticinquina di euro perché ero curioso di vedere questa ditta se era riuscita a fare uno un buon dongle questo dongle è sostanzialmente un android to android cioè la vostra auto deve essere predisposta ad android auto via cavo con questo dongle diventa un android auto wireless è piccolino è poco ingombrante e vi dico subito che funziona molto bene funziona molto bene perché il vostro smartphone samsung si collegherà scusate il vostro smartphone android nel mio caso samsung si collegherà tranquillamente wireless senza bisogno di del cavo lui diciamo questo prodotto si va a scontrare con carlin kit a2a si va a scontrare con l'msx che ho già recensito in questo in questo canale e a mio parere è uno dei migliori dongle io attualmente per il mio uso personale tengo questo 8 cast e l'msx perché li trovo attualmente più performanti chiaramente sono degli strumenti che servono solamente a eliminare il cavo non potete utilizzare youtube in movimento non c'è il play store servono solo a eliminare il cavo lo fanno bene senza cadute di linea e velocemente si collegano velocemente previsioni meteo domani a sharm el shake a sharm el shake domani ci sarà il sole con una massima di 40 gradi e una minima di 31 beh sharm el shake domani è come come l'italia 40 gradi quindi amici un video breve per dirvi che 8 cast ha fatto un buon prodotto che purtroppo mi sono dovuto comprare non mi hanno mandato ma io sono buono e quindi me lo sono me lo sono preso vedete qui c'è scritto anche il modello cp 86 a a e vi anticipo che non l'ho trovato su amazon italia ma l'ho trovato su aliexpress a ottimi prezzi probabilmente tra un po sbarcherà anche su amazon italia però per adesso sta su aliexpress sta a buon prezzo vi metterò in descrizione il link e vi ripeto ve lo consiglio perché io stesso lo utilizzo e non lo non lo venderò me lo tengo nel cassetto per vedere anche se riceverà degli aggiornamenti firmware aggiornamenti firmware che ha ricevuto nel momento in cui l'ho comprato ora sono fermi ad aprile ma se il dongle funziona bene come in questo caso è un dongle che non deve fare niente di speciale ma solo eliminare il cavo non vedo perché dovrebbe dovrebbero esserci aggiornamenti se poi funziona funziona bene chiaramente magari nel momento in cui uscirà android 15 nel momento in cui ci dovesse essere necessità avendo gli aggiornamenti via ota voi potrete fare cioè la ditta potrà aggiornarlo e migliorare eventuali bug cosa che ad esempio con il motorola ma1 non è possibile quindi motorola ma1 buon prodotto certificato google ma non c'è la possibilità di fare gli aggiornamenti e quindi un domani non possono eventualmente fixare dei bug lui è piccolino vedete è grande come una piccola penna usb se magari però voi avete un vano usb cioè dove una porta usb messa in un posto scomodo dove non può essere inserita una pennetta come questa allora non fa per voi dovete prendere uno di quelli via cavo ma la pennetta è piccola se avete un po di spazio questa della autocast è un'ottima soluzione per ora vi vi lascio vi saluto a vi anticipo già che ci siamo che il prossimo dongle che recensierò sarà questo questo è presente su amazon italia come vi faccio vedere ha la particolarità di avere una usb c e una usb normale ancora non l'ho provato vi farò sapere presto come come va ciao a tutti